Prima o poi le mie notti le passerò qui. È così rilassante. Vengo qui e i pensieri li lascio da un'altra parte. È stata un'annataccia. Non ho giocato bene. È stata una stagione di alti e soprattutto di bassi, ma... ammetto le mie colpe. Ci penso di continuo. È la prima volta che non mi qualifico in automatico e devo confidare in una chiamata. Ed è brutto. JT. J Tizzol. È l'ideale per la Ryder Cup? Non lo so. E lui ne è consapevole. Sa che la situazione è molto incerta. Avrei voluto facilitargli il compito, ma purtroppo a questo punto la questione non dipende più da me.